Ben ritrovati con A2x2 faccia a faccia con i consiglieri provinciali, il nostro giro che è ricominciato dopo ovviamente l'elezione del nuovo consiglio provinciale e dunque andiamo anche a conoscere molti dei volti nuovi che siedono nei banchi dell'emiciclo di Piazza Dante e questa puntata in modo particolare salutiamo e conosciamo Dennis Paoli, consigliere provinciale per la Lega, benvenuto nei nostri studi. Grazie. E innanzitutto, la prima volta in assoluto a parlare anche di politica qui così davanti alle nostre telecamere, conosciamo chi è Dennis Paoli, qual è la sua estrazione innanzitutto, da dove arriva, qual è il suo territorio di rappresentanza soprattutto di provenienza? Io sono di Mezzocorona quindi vivo lì da sempre nel cuore della Piana Rotaliana e diciamo che la mia esperienza politica è nata a 16 anni quando chiesi a mio padre di accompagnarmi ad una riunione che si svolgeva a San Michele all'Adige vicino a Mezzocorona appunto e lì iniziai a conoscere i primi militanti della Lega, iniziarono a dare le prime indicazioni, le prime informazioni sul partito e da lì fu un crescendo di aspettative e di progetti che iniziai a portare avanti, in primi come esponente giovani e nel ruolo che avevo come rappresentante di istituto al Martino Martini di Mezzolombardo, la mia prima esperienza, la mia prima prodotto politico diciamo tra virgolette politico fu quello proprio di chiedere l'affissione dei crocifissi in tutte le aule e fu un successo perché è importante che i valori, le tradizioni, la nostra cultura, la nostra storia, i nostri simboli rimangano all'interno delle istituzioni e all'interno insomma della nostra vita quotidiana. Quindi insomma nella Lega fin da sempre scalando le varie fasi arrivando fino ad oggi appunto a sedere nei banchi del Consiglio Provinciale, che impatto è stato in questi primi mesi? Diciamo che ho avuto modo di fare tutta la gavetta in Lega perché comunque la mia esperienza passa dal coordinamento dei giovani della Lega del Trentino, ora sono attualmente membro del direttivo della Lega Trentino e segretario appunto della sezione rotaliana. Ho svolto anche l'incarico di consigliere comunale a Mezzocrona e di consigliere della comunità rotaliana a Koningsberg. Chiaro che a livello locale le vicissitudini, le tematiche sono un po' più diciamo amministrative, qua adesso all'interno del Consiglio Provinciale si fanno proprio le leggi, si va a legiferare su quello che è il futuro del Trentino, quindi in questo caso qua sento ancora maggiore responsabilità e con la miglior forza possibile cercherò di dare il massimo per appunto dare un futuro migliore al Trentino e al nostro territorio. Ecco Paolo, a proposito di futuro, allora andiamo subito nel dettaglio anche perché i minuti sono pochi, cosa c'è nel suo futuro come primi obiettivi da provare a voler raggiungere? Diciamo che la priorità mia è proprio continuare nella filosofia della Lega, quindi quella del territorio, di stare in mezzo alla gente, farmi da tramite con la Giunta e portare le problematiche, le idee, le esigenze dei cittadini. Io ho avuto modo di occuparmi in questi mesi di svariate tematiche dal mondo del lavoro, quindi imprenditorialità giovanile e agricola alla valorizzazione della cultura e turistica del territorio a progetti riguardanti la famiglia, la sanità e la disabilità. Ecco che quindi è da poco che ho presentato un documento relativo alla proposta di valutare delle campagne di prevenzione per le patologie visive con un'unità mobile itinerante che in particolare presso case di riposo, centri anziani e territori periferici del Trentino, in modo tale da evitare trasferte a chi ha, sono delle categorie da sostenere. Quindi sta spaziando un po' su tutto, mi pare di aver capito, ma c'è un obiettivo, una cosa che le piacerebbe portare a compimento magari anche nell'arco di questi cinque anni ovviamente, non immediati? Diciamo che le tematiche sono tante, sicuramente a me piace fare il lavoro da formichina, tra virgolette, nel senso che tutto è importante e a seconda di quello che il territorio mi fa recepire io cerco di mettermi a disposizione. Ecco che chiaramente una prima cosa che sicuramente ci sarà da mettere mano e su cui ho un'attenzione particolare è il centro sanitario San Giovanni di Mezzolombardo, qui purtroppo abbiamo ereditato una struttura che ha già alcune problematiche, ma che sicuramente con i vari sopralluoghi e con un stretto collegamento con l'aggiunta e con l'assessorato di riferimento cercheremo di migliorare e di portare a termine una struttura completa al 100%. Ecco, insomma, alcuni argomenti ci sono, ovviamente gli a tu per tu si ripeteranno, quindi ci sarà modo di rivedersi ancora e magari di rimanere costantemente aggiornati insomma sui lavori, sui progetti anche appunto del consigliere Denis Paoli, che ringraziamo allora per essere stato con noi, ricordiamo consigliere da qualche mese appunto in aula con la Lega, buon lavoro ovviamente. Buon lavoro a tutti voi. E per ora è tutto, l'appuntamento è al prossimo a tu per tu, grazie. Grazie a tutti.